Il governo libico guidato da Fayez al-Sarrai e sostenuto dall'Italia ha proclamato lo stato d'emergenza a Tripoli. Avanza la settima brigata fedele al generale Haftar, spalleggiato da Francia, Egitto, Russia ed Emirati Arabi Uniti. Il generale protegge gli interessi francesi in Cirenaica. L'Egitto lo sostiene con il palese obiettivo di avere una fascia di sicurezza in Libia, mentre la Russia non nasconde l'ambizione di tornare nell'area con una base militare. Sabato un colpo di mortaio ha sfiorato l'ambasciata italiana, che resta operativa pur con molti diplomatici evacuati, ambasciatore compreso. Intanto 400 detenuti, molti dei quali sostenitori dell'ex leader Muammar Getafi, sono fuggiti dal carcere di Ain Zara. La crisi libica darà non pochi problemi al governo Conte. L'immigrazione, che parte dalle coste della Tripolitania, è un tema fondamentale, ma la stabilizzazione della Libia, che passa dall'esportazione di petrolio, non lo è di meno. Senza una ripresa dell'economia è assai difficile convincere le milizie libiche a rinunciare agli introiti dei traffici di esseri umani. Un attentato terroristico ha ucciso Aleksandr Zakharchenko, leader della Repubblica di Doniesk, nel centro della capitale, venerdì 31 agosto. Ferite 11 persone, fra le quali il ministro delle finanze e vice primo ministro Aleksandr Timofiev. Ai funerali tenutisi ieri, domenica 2 settembre, sono accorse più di 200.000 persone. Alla cerimonia erano presenti il presidente dell'Ossetia del Sud, Anatoly Bivilov, il presidente della Repubblica di Crimea, Sergei Aksyonov, la deputata russa Natalia Poklonskaya e lo stesso Timofiev, nonostante le condizioni precarie. Secondo le autorità, sono stati già detenuti diversi sospetti e si parla senza indugio di sabotaggio ucraino. Lui non c'è più, ma la guerra vile continua. Hanno ammazzato un uomo, ma così hanno alzato la bandiera del Donbass e adesso per loro è la fine, hanno dichiarato. Decisa la reazione del presidente russo Vladimir Putin. Vogliono mettere in ginocchio il Donbass, non ci riusciranno. Gli alti comandi di Iraq, Iran e Siria si sono riuniti a Baghdad sabato 1 settembre in un vertice su sicurezza e cooperazione fra i servizi di intelligence nella lotta contro Daesh. 20-30.000 tagliagole potrebbero approfittare delle condizioni climatiche avverse per rifarsi sulle comunità estremate da siccità e carenza di risorse. Il tutto mentre nel nord della Siria, ai Glib, controllata dalle forze turche ed ultimo bastione dei terroristi, i miliziani non intendono scendere a compromessi con il governo, pronto per un'eventuale risposta militare. Da giorni infatti si ventila la possibilità di un altro attacco chimico, inscenato per incolpare ancora Damasco. Sul fronte internazionale sorprendono le dichiarazioni del capo della diplomazia francese, Jeanne-Yves Le Drian, che ha sottolineato come la Francia stia lavorando col gruppo di Astana, composto da Russia, Iran, Turchia, per prevenire un bagno di sangue ai Glib e trovare una soluzione politica al conflitto. Mosca continuerà ad appoggiare il governo siriano in base alle risoluzioni ONU, ha sottolineato il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, secondo il quale i terroristi continuano a violare il cessato del fuoco e a provocare l'esercito siriano. La Turchia, che in una mano partecipa ai colloqui di Astana e con l'altra sostiene i terroristi ai Glib, ha espresso contrarietà rispetto ad un'eventuale offensiva militare russo-siriana di larga scala. Il Tribunale elettorale brasiliano proibisce ad Ignacio Lula da Silva la partecipazione alle prossime presidenziali. La decisione è datata venerdì 31 agosto. Ignorate le richieste della Commissione ONU sui diritti umani di garantire i diritti politici a Lula, espresse il mese scorso. Il Partito dei Lavoratori e i difensori di Lula possono ancora appellarsi alla Corte Suprema federale. In riserva, la candidatura alternativa di Fernando Haddad al posto di Lula, per cui vi è tempo però solo fino al 17 settembre. Lula rimane in testa nei sondaggi col 39%, uno stacco di 20 punti dal candidato di destra, Jair Bolsonaro.